Ciao a tutti, oggi parlo di un argomento che in tanti mi state chiedendo di affrontare. Per quale motivo la persona che ha un disturbo narcisistico di personalità è così cattiva nei confronti di coloro che provano attenzioni, provano amore, provano interesse nei suoi confronti? La motivazione è alla base di come questa persona vede le relazioni, in realtà non è proprio proprio un problema dell'essere cattivo, è un problema di non riuscire ad accettare di provare delle emozioni, soprattutto di non avere voglia e necessità di dipendere dalle emozioni che gli altri gli fanno provare. Questo perché, a detta di molti narcisi con i quali ho avuto a che fare in questo periodo, perché in molti mi contattano proprio per parlarmi, proprio per il mio modo non giudicante di affrontare il loro comportamento, ma abbastanza distaccato dal punto di vista del giudizio e soprattutto approntato nel cercare di comprendere qual è la dinamica che ci sta dietro, mi contattano e spesso mi mandano anche delle belle mail lunghe lunghe in cui mi raccontano tutto quello che provano quando questo succede. Tempo fa mi contattavo un ragazzo il quale mi chiese di fare coaching e io gli dissi che non potevo aiutarlo, perché non potevo seguirlo io come coach, in quanto, avendo lui dichiarato di essere un narcisista patologico, non posso seguire come tale una persona che ha un disturbo di personalità. Cioè, nella mia professione non si potrebbe, non si dovrebbe mai seguire una persona che ha un disturbo di personalità, a meno che non sia seguito da uno psicoterapeuta. Questo ragazzo non era seguito da uno psicoterapeuta e quindi io gli dissi che mi dispiaceva, ma non potevo seguirlo come coach. Però lui mi chiese se potesse parlare comunque con me, raccontarmi le cose che stava sentendo, non perché volesse stare al centro delle mie attenzioni, ma perché aveva bisogno di comunicare a qualcuno come si stava sentendo e sperava che queste cose che potessi ascoltare potessero anche servire alle persone con le quali collaboravo, con le quali avevo a che fare, che erano tendenzialmente quelle che lui definiva personalmente le sue vittime. Quindi, bella, pronta ad ascoltare senza lavorare, ma semplicemente per un ascolto di interesse, mi fermai a parlare con lui. Facemmo una videochiamata e questo ragazzo mi si presentò, ovviamente Spavaldo, certo di se stesso, lui era stato diagnosticato narcisista overt con una base istrionica. Quindi il suo psicoterapeuta e poi lo psichiatra l'avevano comunque già diagnosticato, in quel momento non era in cura. Però era andato dallo psicoterapeuta a lungo ed era andato anche da uno psichiatra il quale gli aveva dato da prendere delle sostanze utili per alcuni altri problemi per cui era stato comunque curato, tra cui una parte di bipolarismo, credo, per quello che mi ricordo. E questa persona mi raccontò che nonostante fosse stato da uno psicoterapeuta e da uno psichiatra era terrorizzato di quello che lui stava diventando e aveva bisogno di capire come fare a smettere di peggiorare di giorno in giorno rispetto a quello che era il suo vivere. Aveva 25 anni, 26 quasi. E arrivò da me, forse 27, o 26 o 27. Venne da me e quindi mi chiese se lo potessi ascoltare. E io lo ascoltai. Mi chiese se poteva registrare la nostra conversazione. Gli dissi che non c'erano problemi, era lui che registrava. E cominciamo a parlare. Mi parlò di quello che erano stati i suoi primi sentimenti riguardo al suo disturbo. Si era reso conto, quando era giovane, ma aveva poco più di 16 anni, di essere diverso dalle persone che aveva accanto, perché soffriva se vedeva gli altri felici e era felice se gli altri soffrivano. Incominciò a parlarmi del fatto che aveva fatto del male ai propri animali e aveva scoperto questa dinamica quando era poco più di un ragazzino, che far del male ai propri animali lo rendeva una persona felice. Per cui, quando da più grande aveva fatto del male veramente a uno dei suoi animali, non mi ha specificato quando e come, perché sono animalista e lo sapeva, la madre decise di portarlo ad uno psichiatra e da uno psicologo infantile, il quale gli disse che aveva semplicemente bisogno di stare al centro delle attenzioni e che quindi doveva cercare di aiutarlo. Questo bambino crebbe e crebbe con questi bisogni, cioè di fare del male. Lui non era felice se non aveva questa sensazione. Poi per un periodo questa sensazione passò e quando diventò un uomo giovane iniziò a provare queste sensazioni quando frequentava le persone, che fossero amiche, che fossero fidanzate, che fossero parenti, che fossero persone a scuola con cui aveva a che fare, erano necessariamente compagni o amici, lui trovava sempre una strategia, la studiava in maniera fine per fare in modo che queste persone in un modo o in un altro capitolassero per poi demolirle. A quel punto il mio lavoro è fare domande, non rimase zitta e gli chiesi se potesse spiegarmi per quale motivo faceva questa cosa. E lui mi disse di non avere dei genitori disfunzionali, mi disse che gli era stato spiegato che la sua patologia era quasi sicuramente per un qualcosa che era legato più alla famiglia o allo stato sociale o al modo in cui aveva vissuto che ad altro perché dal punto di vista biologico non c'era niente che non andava. Però questo ragazzo non riusciva a trovare una soluzione perché i genitori erano sempre stati presenti, era vissuto in un ambiente tranquillo, non c'era stato nessun momento in cui si era sentito motivato dall'essere diverso dagli altri. Eppure più cresceva e più questa sensazione di dover fare del male agli altri diventava enorme e non capiva il perché. Quindi quando arrivò da me era disperato perché aveva provato a parlare con tante persone e poi alla fine non l'avevano compreso, probabilmente non l'ho compreso nemmeno io. Però mi raccontò delle cose molto utili, cose fondamentali che io fino a quel momento da non persona con questo tipo di disturbo di personalità, al contrario, io soprattutto sono stata dalla parte di là, codipendente e dipendente affettiva, mi sono resa conto che mi fece rendere conto questo ragazzo di quanto male si può stare nel fare quello che fanno. Cioè il bisogno della sofferenza degli altri come certezza del proprio potere sugli altri li rende persone super forti fino a quando non si rendono conto che quel potere è la morte della loro libertà. Mi diceva questo ragazzo che non si fidava più di nessuno, che non usciva più, che non usciva più neanche da camera sua, che tutta la sua vita era diventata cercare delle vittime online per farle illudere e poi abbandonarle. E io gli ho chiesto se fosse felice così e lui mi ha detto che ovviamente non lo era e io gli ho chiesto quale sarebbe stata secondo lui la felicità e lui ha risposto essere una delle mie vittime e capire che cosa si prova nell'amare un mostro come me. Questa parola mostro purtroppo l'ho sentita dire anche da un paio dei miei ex narcisisti che quando poi alla fine ci si è lasciati uno soprattutto mi disse fai bene a scappare da me perché io sono un mostro e tu non meriti niente di tutto ciò. Mi disse anche il mio ex che mi invidiava il mio modo d'essere che non era ingenuità ma era la trasparenza con la quale vivevo le mie emozioni senza averne paura. E alla base di queste persone dentro queste persone fondamentalmente per quello che viene detto dagli psicoterapeuti ma per quello che si legge su molti dei libri che ci sono in giro ma soprattutto per quello che io ho sentito dire da loro stessi c'è un timore infinito di provare delle emozioni che poi ovviamente diventano pericolo per loro perché non essendo controllabili non si permettono di poterle controllare se non hanno il comando sulle emozioni e quindi il potere sulle persone non si sentono persone al sicuro. Quindi tutte le volte che cerchi di fare qualcosa di amarlo a tutti i costi o di amarlo a tutti i costi in quel momento se non è pronta o pronto a cambiare per se stesso non lo puoi aiutare lo puoi solo terrorizzare e la puoi solo far allontanare di più quindi ricordati che al centro del tuo mondo ci devi essere tu e non devi mai salvare nessuno che non voglia essere salvato quindi che non te lo chieda per primo. A presto. Ciao. Ciao.